Salve a tutti amici iscritti e bentornati nel... Parliamo di cartoni animati In questa selezione nel contenuto del canale originale di Polo Poli News parliamo dei cartoni animati di recente che sono usciti nel 2022-2023 Oggi parleremo di un cartone animato della Netflix per femmine Parliamo di Power Principes Il potere delle principesse che ho visto in una maratona di episodi qualche settimana fa Voglio parlare di tutto del potere delle principesse Il titolo italiano Power Principes Uno della serie del 2023 Adesso approfondiremo quel cartone animato La trama parlano di queste quattro principesse Che hanno... Prima hanno la gonna E poi mettono i pantaloni E le principesse del cartone animato Te lo dico in nome Sono Kira Kiwi Che è una ragazza nera Che è una principessa nel regno di Kiwi Perché... Allora Approfondiamo il personaggio È una nera È vero Ma perché? Voglio sapere perché è una nera Intanto quello non mi sembra che è un Kiwi questo Questo non è un Kiwi È solamente che è un frutto Sembra un frutto viola Sembra un frutto viola Ma non è un vero Kiwi Questo è un vero Kiwi Che è verde il Kiwi È marrone Quello... Perché è un Kiwi A me mi sembra che è un frutto viola A me sembra un rasperimene Vabbè Passiamo a quest'altro personaggio Ecco Penny Che si Penello Pineaple Penny Io dico che questo è un bel personaggio Ma Penny che porta sempre un gattino Un gatto Mr.Criscer Questo gatto È come Paperino di Topolino La casa del divertimento Che lui si spacca sempre Ma Questo è un personaggio diverso Quando le principesse cantano Quando prendono tutte il necessario Il gattino Quando lui indossa gli occhiali Da sole In ogni episodio lo fa Questo è brutto Questo è brutto sta cosa Quello del gatto che va via C'ha il colare Rosa Fuzia E c'ha il colare di Questo è un ananas perfetto Non credo che sia una nuova fidanzata di SpongeBob Vabbè Poi abbiamo Beatrice Blueberry Beatrice Blueberry Sembra una parodia di Sofia la principessa Sofia la principessa con i capelli arancioni E si Analisiamo e approfondiamo questo personaggio Questa qui Beatrice Blueberry Sono tutti quelli che sono Tipo Peppa Pig Ecco Sembra Peppa Pig Questo cartone Vabbè Scherzavo E' tipo Peppa Pig Che dà i cognomi I nomi Come a casa dei loud Vabbè Sofia la principessa Beatrice Blueberry Qua ha un particolare Lei è sportiva Gioca pallone Guardate La gamba In ogni episodio si vede che lei ci ha fratturato Si Spacca una gamba Quella lei è malatta di mente Perché lei Ha la gamba sinistra Che c'ha sempre il gesso Lei porta sempre il gesso Durante anche Quando va in spiaggia Ecco Lei porta sempre il gesso Come fa Per Sofia la principessa Beatrice A portare Questo Non è Mistero dei cartoni animati E poi abbiamo Uno dei miei preferiti Ecco A me mi piacciono i lamponi Sono i miei frutti preferiti Ma Non voglio dire il nome completo Lo chiamo Rita Rasperi Rita Rasperi E quando C'ha la gonna Sembra Oh mio dio Bella mia madonna Guarda che bella principessa Lei è molto bellissima E contentissima Bellissima Questo è il mio personaggio preferito Della serie Non ho fatto bene Su Rita Rasperi Ma quando Usa i pantaloni Sembra Una ragazzina Con le bretelle Sì Dopo di tutto Non c'ha nemmeno le calze Perché c'ha le scarpe Come l'altra E come Kira Ecco Kira lo chiameremmo Pira Perché Il purple fruit Ecco Chiamiamo Pira Vabbè Rita Rasperi E' un personaggio Migliore Di questo qui Bellissima E divertente Perché è una principessa Vabbè Poi In ogni episodio Le principesse Cantano quella canzone Andiamo vai Andiamo Dai Na 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 In ogni canzone Questa canzone L'odio Fa Na 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 Tu vai Poi le principesse Risolvono sempre Il problema Di questi personaggi Che c'è un re Una regina Un fratello Un principe Se si mettono nei guai Le principesse Si Risolvono Al meglio Delle loro Propriazioni Ma Ci sono I episodi stivi Si Questo qui Nel cartone Non hanno il costume Da bagno No Hanno la muta Come mai Vuoi sapere Perché come mai Dico Hanno la muta Le principesse Vero Ma io Non trovo Ridicolo Questo cartone Vanno a salvare La balena Ma Sono sexy Oh Dimenticavo Nel episodio Appare Anche sempre Questo Cricettino Qua Mister Provers Si Quello Quello Cricetto Si Ci sono Tanti personaggi C'è Delle altre Principesse Degli altri Principesse Amici Che questo cartone E' stato annunciato L'anno scorso Assieme ai Teletabis Che si Power Principes Il potere Delle principesse E' un cartone Matto Prescolare Si è un cartonato Prescolare Femminile Tutte le principesse Non hanno Nessuno Se arriva Se arriva la seconda Stagione Povero Te Povero Te Allora Il mio voto Finale Su queste Qua Diriamo Un Ber Otto Su Due Si Otto Su Quattro Otto Su E' la mia Principessa Preferita Non ci sono dubbi Vabbè Non voglio approfondire Tutto su questo cartone Animato Bene Iscrivetevi al canale Mettete più Mi piace Lasciate like Ovviamente Commentate E anche condividete E noi Ci vediamo Al prossimo Cartone Animato Nuovo Di recente Non vecchio 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 Qui Parliamo di cartone Animati E forse Parleremo di Oddball Stagione 2 Ma E' tutta Un'altra Storia Ciao A tutti Beh Vediamo 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 Si fa Si può fare Per dire